... Allora, questa pietra come si chiama questa pietra? La? La? La Sette! La Sette! Da dove si prende? Da Dardano! Da Dardano! E dove i prestorici da Corato, che mi davano a Corato, andavano sul Gargano, sì o no? Sì! C'era o uno scambio o alcuni si spostavano. Vi do un piccolo segreto, vi dico un piccolo segreto. E' leggero o pesante? Ok! Il legno che sto utilizzando è un legno molto resistente, si chiama legno dell'albero dell'alloro. No! 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 Le foglioline vengono utilizzate anche in cucina dalla mamma o dal papà. Taglio! Guardate! Vieni! 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 Non hai coraggio! Dal porto Clean 스파! Ma è un po' che è legno!!! Mentre la macchina? Grazie inseris 후�ona. No, io tutti o meno! Non hai materiale? E non esattamente? No. Non hai像 presa in cucina México? Non è solo carattata! Un po' che puro tu faccia già in conto accera. Sare che c'è! Un po' di microilazione monna?